Giuseppe Ragone, che succede? Vai via un'altra volta. Perché? Perché vai via? Io sto andando, sto partendo un'altra volta, perché sono esausto, sono esausto. E che è successo? Allora, partiamo da questo presupposto. A me piace molto Domenica Inn. Mi piace questo salotto domenicale, dove si fanno questi omaggi alla musica italiana, queste interviste vere, solo che io la domenica non ci sono mai, perché faccio delle feste per bambini, insomma, che sto qui a spiegare. Per cui ho espresso questo desiderio di avere un videoregistratore. Mio cognato e mia suocera mi dicono, hai bisogno di un videoregistratore? E faccio sì, aspetta qua, non ti muovere. Al certo punto ritornano e mi dicono, dacci 500 euro. Per il videoregistratore? Io gli do 500 euro. Perché? No, abbiamo preso questo videoregistratore con l'e-commerce, arriverai un pacco, tu ci devi dare solo questi 500 euro e devi aspettare. Quindi aspetto. Dopo un paio di giorni arriva questo pacco, questo commesso, tutto incappucciato. Questo pacco pesante, pesante. Apro questo pacco pieno di mattoni, provo a chiedere spiegazioni a mia socia e al mio cognato, ma non ci sono. Dove sono? A Parigi. Capito? Con i miei soldi. A Parigi. Io sono esausto, me ne voglio andare da qui. Ma dove? Ma dove te ne vai? Ma perché? Dove vai? In Danimarca. In Danimarca dove? È così, a città, è una città della... Helsing! Sarebbe la città di Amleto, dove ci sarà pure del marcio, ma secondo delle statistiche ci sono dei cognati fantastici. Con i videoregistratori. Sono i migliori cognati d'Europa, quindi è lì che voglio andare. Va bene, va bene. In Italia mi ha deluso, basta. No, me ne vado. E non riusciamo a... Lo provate a fermarti. No, no. Helsing, non ti... Ciao, 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 grazie. Per la musica, grazie, scusate ragazzi, scusate, lo salutiamo. Che succede? Ma dove vado? Ma infatti, ma dove vai? Ma dove la trovi questa umanità? Questa musica? La musica è italiana, non c'è da nessun'altra parte. È italiana. Io voglio stare qui, i salotti domenicali, voglio vedere le interviste, voglio vedere le vite dei famosi. Giusto! Nel resto d'Europa non lo fanno. E poi? Che fai? E poi? Questi, questi, dove li trovi? Dove li trovi? Guarda qua. Cos'è questa volta? Un fiore di zucco. Con i fiori di zucca, con le alici, guarda che meraviglia. Ma questi, rosticceria 1. Non lo puoi dire! Non lo puoi dire! Non lo puoi dire! Non lo puoi dire! È una marchetta! Ciao, itali appettino! Non lo puoi dire! Ma scusa, ma la da rimarca? Ma dove? La rimarca? Ma vi va! Va bene, grazie a zè!